Che succede? Sento un grido? Oddio! No, dico, siccome sto qua davanti al vostro studio, sono una donna anch'io, pensavo mi potevate anche intervistare, per esempio, su questa iniziativa. Che ci fa là fuori? La vedo tutta... scocata, la vedo. Sto piantonando l'obelisco egregiamente di figato arduce, perché sinceramente noi fratelli e fratelli d'Italia siamo molto preoccupati che Salvini si possa inguattare pure questo. Scusi, ma perché dovrebbe adesso? Perché dovrebbe? Tutti i slogan fascisti, io non mollo, tiro dritto, se sono fregati. A pure a massaia rurale con premio in cipolla al terzo figlio se sono fregato. No, non ha tutti i torti, questo è vero, ma non avete brevettato qualcosa, non avete brevettato? No, i brevetti, i brevetti che vi chiede a Alessandra, io dei brevetti non ne so niente. Me ne frego se l'è fregato Salvini, ha detto pure così, buttato via, manco se prese il disturbo e confiasse un pochetto i pettorali. Ma signori, io penso che me ne frego meriti un pochetto più di rispetto di questo, signori. C'ha ragione. Eppure, come si chiama, il barconcino e il duce, entrano, escono, parano nella discoteca, i zingari e i ruspe, se li sono presi da mo'. Eppure aiutiamoli a casa loro, signori. Era una proposta dei fratelli e dei fratelli d'Italia, signori. Era una proposta, tra l'altro, molto efficace. Cioè, anziché fare venire i profighi qua, ci reghiamo noi in Africa, mettiamo degli sportelli dove il richiedente asilo compila un modulo, dopodiché ce lo restituisce e noi gli diciamo grazie, le faremo sapere. E chi ce vi è più in Italia? Io penso... Certo, era un'idea, era un'idea. Io penso che sul grazie le faremo sapere l'Italia sia un'eccellenza che non deve dare resti a nessuno, insomma. No, no, c'hai ragione, ma come farebbero adesso a fregarsi l'obelisco che è qua fuori? Beh, non lo so, se sono fregati 49 milioni di euro, se possono fregare pure un obelisco. Vabbè che... Non diciamo cose... Vabbè che questo obelisco è di un valore inestimabile, ma qualcuno che tu lo stima lo trovi se gli metti in mano 49 milioni di euro freschi. Scusi, ma insomma lei mi fa capire che ha paura che quelli della Lega, mi scusi il termine, siano diventati più fascisti di voi. No, il problema è che qua sono tutti fascisti, quelli della Lega sono più fascisti dell'altri e si rischia purtroppo di perdere il fascio italiano DOP. E come sappiamo è presente solo nei fratelli e fratelli d'Italia, signori, non possono fare i fascisti tutti. Il fascio italiano DOP è quello che ci invidiano in tutto il mondo, signori, quello che abbiamo esportato in tutto il mondo. Io lo dico anche per gli altri schieramenti, pure la sinistra, ma se la sinistra se dovesse perdere pure l'antifascismo, ma la volta che si guardano faccia e si dicono andamosene a casa perché ci abbiamo più niente, va veramente, signori. Questo è vero, no, ma c'ha ragione, eh? Io lo dico sommessamente, però questo è un fatto proprio di memoria, cioè il fascio italiano DOP è un problema di memoria degli italiani, che ce lo dobbiamo dire in faccia? Abbiamo un problema di memoria, signori, e la memoria è importante. Molto, molto. E vi è mai capitato quando entrate in una stanza e dite, ma io che cazzo ero uno da fare? No, no, la memoria, la memoria. Però dovrebbe essere un po' più contenta, scusi, no? Salvini non l'ha candidata a sindaco di Roma. Ma guarda, mi è venuto un tuffar cuore, mi ha fatto molto piacere, non è che mi spavento, perché io saprei evidentemente dove mette le mano subito, piazzo un po' dei parenti all'Atac, la monnezza la do a banda della Magliana finché non mi restano, vado avanti a testa alta. Però il problema è, siamo sicuri, non sarà un gesto un po' forte dopo Alemanno, Marino, Araggi, arrivo io, rischiamo che non rimane più niente da sfasciare, non parlo nel mio interesse, naturalmente parlo nel interesse delle generazioni future dei sindaci di Roma, sicuramente, ma noi glielasciamo proprio niente. C'è questo rischio, c'è questo rischio. Comunque, senta, ma quanto devo rimanere lì sotto l'obeliscola, prego? Un segretario del partito non posso, a me mi dispiace vederla lì al freddo, dai. Sto aspettando il cambio, dovrebbe arrivare Ercaccola a minuti, mi ha chiamato. Scusi, chi è Ercaccola? Ercaccola è un fratello dei Fratelli d'Italia, evidentemente, che era l'unico disponibile a quest'ora, purtroppo, come forse vi immaginerete, noi non siamo moltissimi in Fratelli d'Italia, siamo, lo sarete domandato, ma come mai, quando intervistano a Fratelli d'Italia, in televisione c'è sempre soltanto Giorgia Meloni, lo sarete domandato, ma dove stanno, starti con i Fratelli d'Italia, lo sarete domandato? Ora che ci penso, me lo domando, chi sono gli altri? Ma diciamo che ho zoccolo duro a Latina, e Latina per venire a Roma significa Pontina, che praticamente stanno tutti incastrati là, quelli che c'è stanno, anche Ercaccola sicuramente sta incastrato là, ma manco a dire se divento sindaco di Roma, prometto che la Pontina non posso prendere niente, la Pontina è finita, già è tanto che hanno dovuto le zanzare. Grazie, Giorgia Meloni, senta, le mando un termos col caffè, fa freddo. Non ti preoccupa, a vittoria mutilata. Il nostro sponsor, che devo fare?